Paolo Betti, oggi era importante conquistare due punti, non è stato semplice, come immagino tutti aspettassi, però poi sono arrivati. Sì, ha detto bene, Pino è una squadra allenata bene, facciamo complimenti a Pippo Mignati, sono presentati le idee chiare, infatti il primo tempo si è visto, siamo stati vicini nel punteggio, poi abbiamo fatto sinceramente un bel terzo quarto, sono contento per la partita perché l'abbiamo vinta oggi più in difesa, cosa che magari durante l'anno abbiamo tanto da migliorare, sono contento perché siamo primi in campionato, perché passiamo alla seconda fase in dieci punti e quindi non vorrei che fosse scontato, ma questi ragazzi hanno fatto fino ad ora un campionato bellissimo, li devo solo ringraziare. È una partita difficile anche perché oltre alla qualità non poca degli avversari, sono una squadra che prediligono il gioco veloce, come d'altronde anche la menzana, quindi com'è stato l'approccio a questa partita da questo punto di vista? Sono una squadra, tranne Castelli, un posto da esterni, quindi anche noi in certe situazioni dobbiamo anche adeguarci a loro, soprattutto difensivamente. L'approccio è stato bellissimo e anche non facile perché per colpa di Marco Crespi che stasera era qui con noi, anche i ragazzi erano emozionati, a parte le battute mi sembra anche doveroso ringraziarlo. Oggi è stata una bella giornata con lui, è stata una bellissima giornata per me personalmente perché comunque essere qui in campo con tutta questa gente, grazie a tutto il pubblico che è venuto. Occhi quindi alla seconda fase ma ci sono ancora due partite nel mezzo che sono comunque importanti, non magari ai fini della classifica ma per tenere alto il ritmo e la concentrazione. Sì sì, avremmo firmato per essere a due giornate alla fine già qualificati i primi a 10 punti, ripeto, però non possiamo essere i bischeri da giocare due partite sotto campo perché si sa poi se le giochi senza concentrazione possono venire fuori mille problemi e quindi dobbiamo sfruttare questo vantaggio di essere già qualificati a due giornate alla fine per prepararci meglio alla seconda fase. Grazie, complimenti.